Stiamo in Irpinia a Flumeri, appunto, nella Vellinese, che diventa città dell'olio con le sue eccellenze. Rino Genovese. Che bello, non ho mai visto così tante olive in vita mia. Mi è piaciuto perché non ho mai visto uno speditore automatico. Oggi abbiamo capito che cos'è la speditura dell'olio. Sono stati i giovani studenti ad iniziare la magnifica passeggiata alla conoscenza di uno dei prodotti più bregiati d'Italia, Campi e Frantoni di Flumeri, la capitale campana dell'olio 2016. È stata l'areale di produzione dell'olio Irpinia, colline dell'Ufida Dopo, infatti, ad essere scelta come tappa di Girolio d'Italia, la più importante manifestazione dell'Associazione Nazionale delle Città dell'Olio. Flumeri, capofilla di un'area molto più vasta, in cui c'è una fantastica produzione di olio d'oliva. La caratteristica principale è l'olio Ravece, quindi il DOP, dei nostri prodotti. Siamo molto soddisfatti e vediamo questa come un'opportunità di sviluppo per le nostre zone e candidiamo Flumeri ad ospitare gli stati generali dell'olio di oliva DOP d'Italia. Flumeri, Ariano, Lapio, Venticano, città dell'olio che possono freggiarsi di un marchio di qualità ormai noto in tutto il mondo, la Ravece. L'olio extravergine di oliva di Ravece è l'alimento principe della dieta mediterranea. Dieta mediterranea che è diventata nel 2010 patrimonio immateriale dell'UNESCO ed è legato al valore di convivialità, di stile di vita celebrato in tutto il mondo. Ed è espressione anche del patrimonio culturale, artistico, storico e anche alimentare proprio dei territori delle città dell'olio. Un terreno straordinario con esposizione ed altitudine ideali garantisce il sapore e il profumo fruttati, inconfondibili, proprietà organolettiche eccezionali. Ma Girolio diventa anche l'occasione per scoprire i mille segreti di una pianta a giusta ragione custodita già dai greci. Quest'olio certificato ha dei benefici, pensate, antitumorali che insieme al farmaco aiutano perfettamente il fisico a ristabilirsi, a riprendersi. Anche le foglie sono medicamentose, quindi sono importantissime da trattare e da conoscere. I benefici che otteniamo dall'uncuso delle foglie di oliva. E' grandioso, serve ad abbattere la pressione, è curativo, quindi vi invito tutti a prendere un bicchiere di decotto di un muso di foglie di oliva e berlo ogni mattina, specie per chi ha un'età come la mia, un olio di qualità come il ralece allunga la vita.